Salve a tutti amici di TechDifferent, siamo in diretta da Barcellona, evento Acer, dove viene proposto questo Jade M, prodotto di fascia media, che viene proposto a 199€, display da 5 pollici, risoluzione HD. Andiamo a vederci il sistema operativo che è Android in versione 4.4.4, vedete, abbastanza fluido, monta un processore MediaTek quad core 64 bit, non abbiamo informazioni riguardanti la memoria e la RAM incorporata. Cam anteriore, cam posteriore, con flash LED autofocus, abbiamo il supporto DTS per un audio stereo davvero performante e display con zero air gap, quindi davvero molto molto ravvicinato al tocco. E quindi senza problemi, senza particolari difficoltà nella visione, è anche molto bello da vedere. Sul posteriore abbiamo questa texture che non rende abbastanza bene in camera, che è ispirata praticamente alla seta thailandese, con un effetto davvero molto molto piacevole al tocco. Un grip assolutamente interessante. Per questo prodotto può essere tutto, rimanete con noi con i prossimi video dal mondo Acer. Ciao a tutti!